Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità in centro, oggi pomeriggio è in programma un corteo tra Piazza della Repubblica e i fori imperiali passando per via Gavur, Piazza dell'Esquilino e largo Corrado Ricci, saranno deviate o limitate 27 linee tra bus e tram, domani invece maltempo permettendo potature in via Cilicia con la chiusura al traffico della strada tra le 7 e le 20 e la deviazione delle linee di bus 30 e 77.